Se volete acquistare crediti andate su gold.com e con il codice DRED avrete il 5% di sconto Allora ragazzi abbiamo attorno di qui credibile nella mia camera con il mio gadget preferito signori Con il mio gadget preferito che è Ghostfrax Comunque signori siamo tornati per un, pensate, grappolo d'uva Il grappolo d'uva estivo Estivo che è comunque il nuovo gioco aperitivo in cui tu lanci grappoli d'uva E chi li prende più con il naso vince E tu lanci il d'uva e estivo non si sente male Comunque sono tornati con Draftato che ho visto che vi piaciano E oggi faremo il draft a cazzo dei cazzi No oggi vinceremo grossi premi Comunque faremo il draft in cui io dirò il numero poi sceglieremo la carta Lui si dirà il numero e sceglieremo la carta Quindi verrà una merda totale e scriveremo grandissimamente tutti i giochi Tutti Tutti quanti dal primo all'ultimo Credibile Questo oggetto di draft sono messi Io usiamolo Io usiamolo Io usiamo 3 4 3 Dammelo 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 Signori 4 3 3 Dimmi il capitano Il capitano è sempre il numero 3 Sicuro? Sicuro Sempre il numero 3 Tra l'ho detto Vabbè Vabbè comunque Comunque ho l'overo il maggiore È l'overo il maggiore Partiamo subito così bene Io ti dico che trovo non so chi io con due però qualcosa Ok Sicuramente una carta Griezmann Che non ci serve un cazzo Che l'unica volta che comunque Però è il migliore tra quelli di poter 3 2 Cristiano Ronaldo Mabbà dai 2 Cristiano Ronaldo Maldimenti la Di Mariazzi Non ci serve un cazzo Eh Perché sappiamo che Messi è sul numero 4 Ah lo sappiamo però eh Cioè comunque c'è una legge italiana Oh Ah merda E allora andiamo via Cosa stiamo dicendo? Ah merda E allora andiamo via Andiamo via Messi sul 4 Io ti dico allora Ronaldo sul 5 Vai Merda Bill Fino alla decetta ce l'ho creduto C'è Bill Vabbè La S è il Cazzo qua è una bella Ci serve Ronaldo Perché ho preso di Maria Cioè ho preso Messi ma devo piare Ronaldo Ci serve Ronaldo Ronaldo è il numero 2 Dorco Cazzo Vabbè 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 sia sopra da Totti Totti bro Eh 3 Tanto ci abbiamo messo Quindi non ci serve un cazzo Puoi morire Dammi Iniesta di breve Eh qua servono i centrocampisti Servono come il pane Dammi Iniesta 1 Ci serve un No 4 2 di 4 3 Ma porco tu Lo stavi evitando come i Cristi Però Però fa intenso 5 Dai Iniesta dai Ci sei 6 Mannaggia Proprio Me lo parolo 3 Roberto Carlos Beh Che cazzo 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 Sotto 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 Serie A Centrocampo Sotto 4 A sto punto Diacosina Sul 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 Tra l'altro 3 Non ci serve un cazzo Complimenti 1 Non vedi L'inutilità Ora di Becco Oblak Col 3 Cassias Che non serve A un cazzo Perché giochi In Portogalo Stiamo andando avanti Benissimo Però l'attacco Meno ce l'abbiamo 1 Va bene 3 Dai sistemami il centrocampo Ma perché non danno Centrocampisti 5 Però è spagnolo Conoceva 5 Dammi un cc Ma ancora Cevciuc Del centrocampista 3 Centrocampista Che giochi spagnoli Ma che cazzo Ci sei Sotto 2 2 2 Ti prego Ti prego Cocchi Grande L'ho beccato Però dai 3 Se fanno volessere Italiana A sto punto 5 Guardate un argentone De merda Schifo 5 5 6 Vabbè regà Allora qualcosa Possiamo sistemare E' una merda Però abbiamo l'attacco Però abbiamo Molt'è Abbi Zardà E ce lo teniamo C'è Andiamo a Vincere Andiamo A giocare questa canale partita guarda che sto fa lo giri pure al contrario però non ci riesci pure la mano sinistra se lo si scommette ahhh c'è delle difficoltà la droga dà, la droga non toglie più niente perchè la droga taglie noh come ti dico? con un certo novanta quanto adesso? ma dai maldini che è facile poterli scegliere il giocatore eh infami merde signori ci siamo allora io sono rosso e lui è il blu quanto cazzo? ah il problema è che lui è in uno tecnicamente quindi come dice ron un cervello è meglio di due e mellic one, two cats madonna quanto sei fatto ma basta che la rindiavi un po' più eh l'avore l'ho fatto quanta fretta ma a dove corri DO CAZZO EMA mi è arrivato più tranquilla comunque a centro si a si non fa ste cose che era volevo fare un attimo che cos'era che cos'era questa cosa brutta e orribile che ha fatta non ti pare che fuorigioco ma perchè la droga è così larga ma perchè fai le finte a centrocampo non è stata colpa mia è che era chiara come cosa dai poi era un altro camalia dell'inter dai recuperiamo signore ma che cos'è ma dai CAGLIONE WUH che culo di me ci stavo un caffè e non abbiamo fatto un tiro eh lo so scusate regà ma io non so già strong eh la co-op non so non è frax del baffanculo no 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 madonna madonna mi ha preso DEGEA almeno un tiro in porta e va bene e dai e dai su se sei nato in fame non è colpa tua ma è solo della gente che ti infila le lame donna mia ho sbagliato tutto no scivola a caso ma fidati so quello che non credo che tu sa che lo puoi fare è buona ah ma dai era fuori il gioco no se no avrebbe dirato in un altro modo si infatti sei tipo cimpato sono mille sono migo e poi ho fatto il ragazzo da io karate kid no ma che fai no dai ma hai scelto l'ho fatto da solo no ma ce l'ho proprio io non l'ho spazzatina eh è fortino questo si abbiamo peccato una volta un 190 da una volta però fino a primo tempo abbiamo fatto 0 di importi allora ma questi che non c'hanno il pollice che preme il tasto A ahahah ok no ha saltato nooo nooo si dove goto dove goto ammetta che culo pallino dove goto c'è stata quella teta a lucidare dove goto che sono plegato non scivolare al centro capo non è vero ma che gol ma dai però dai perchè scivoli ma no ma che scivoli ma un po' devi far cambiare la colpa su di me per far apparire il fatto che comunque non sono il miglior giocatore di fifa ahahah ecco la colpa è di De Gea e di i genitori perchè l'hanno educato male ahahah c'è nessuno su po l'ho passata tirati tirito nooo la ripresa e le casette la ripresa la ripresa mi immagli hai fatto quel passaggio illuminante è il pass forse non il miglior giocatore di fifa però l'ho fatto ma l'ha fatto ma l'ha fatto e allora si la mettiamo tutta io voglio fracassare no dai dai ma come cioè perchè si spostano no pensavo che andavanti perdono le messie no perchè non sei così male no non c'è qui oddio dimmi la portaccia di ceidori era goal e l'ho morto che sofferenza incredibile oddio comunque secondo me per dibattare la cosa che non se l'aspetta purtroppo no meglio no perchè scivoli ma lui c'ha solo culo ma non era per lui obladì obladà ci letti il cazzaccio ci letti il cazzà no bene era fondamentale a fallo palaver l'arte valore c'è un hop leaf ragazzo l'articolo che gli europei i due i due i due mi dai dati quindi faccio tutto più passano l'ovo l'entamento varie il malate falberro Ho fatto una scivolata, ti ha pazzicato Bello che gli ero Dai, ma sei stato te? No, non so stato io Sì, sì Lo rivedremo nel replay Vabbè ragazzi abbiamo provato Ha vinto su perché c'è Ronaldo Dai, Ronaldo con la scia di morte di istruzione Dai, c'è sembra di quel ghost rider Ghost rider, guarda, il cazzo d'applaudi Vabbè, scusami, spero che il video vi sia piaciuto Arriva a 25 canale che ho fatto altri draft Magari non a caso Comunque, io vi regalo il portafoglio di Frax che è versata all'interno Guardate cosa c'è, guardate cosa c'è Nulla Niente signore, non c'è niente Però c'è una testa del Toz C'è la prossima, c'è like un commento E niente, iscrivetevi al mio canale se volete Lasciate un like se non volete Però fatelo Posso un attimo leccare un suolo? No, 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 non si può fare Va bene E da Frax e tred, tred Tutto bene, bene, bella sciazione Ricordate che in descrizione c'è G2A per giochi e abbonamenti scontatissimi